Benvenuto Giuseppe come va? Benissimo lei? Bene, bene grazie. Allora, è il mio momento. Che cosa mi pappo oggi? Oggi abbiamo un'insalata del pinturicchio fatta con del sedano, della rucola, delle pere. Un'insalata mista con del prosciutto sopra. Qui invece sono una pasta fatta in casa che si chiamano strangozze. I famosi strangozzi. I famosi strangozzi fatte con asparagi di bosco. Basilico, zafferano e parmigiano che fa la cremina. E il limone. Questa non so se riesca a mai scherzo. E là vediamo una tagliata. Abbiamo la tagliata nostra fatta in padella, una ratatouille di verdure fresche e una salsa al rosmarino. Molto bene. Allora, di questa cosa tra pochi minuti non esisterà più nulla. Ci vediamo dopo. Benissimo, arrivederla. Prego, arrivederla.